allora procediamo adesso a vedere un altro tipologia di agevolazione quella applicabile alla pertinezza abbiamo inserito un immobile di tipo categoria c6 abbiamo inserito tutti i dati i valori basta semplicemente in questo caso quando non c'è una prima casa immobile principale prima casa è possibile andare direttamente in devoluzioni andare sulle rete a cui assegnatare dell'agevolazione e quindi applicare l'agevolazione pertinenza prima casa y in questo modo avremo quindi definito appunto una prima casa solo per la pertinenza